Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Oggi a Talenti mostra mercato a via Ugo Yeti tra piazza Talenti e piazza Primoli. È prevista una deviazione su via Luigi Capuana e via Renato Fucini per le linee di bus 60, 63, 66, 69, 337, 435 e C5. Intanto al foro italico si fino a mezzogiorno la corsa di Miguel, temporanei chiusure al traffico e deviazioni bus. Infine sempre oggi la consueta pedonalizzazione festiva di via dei fori imperiali con la deviazione delle linee 51, 75, 85, 87 e 118.